Ci troviamo oggi a Santa Marina per una giornata di trekking. Qual è il programma? Il programma prevede lo spostamento da Piazza Nuova di Santa Marina alla Cappella della Madonna del Monte. Di lì partiremo per uno sterrato che è lungo circa 6 km, un dislivello grossomodo di 500 metri e arriveremo a Policastro dove praticamente ci sarà un rimpresco e dopo la visita turistica guidata alla cattedrale, alla parte archeologica, ovviamente questa manifestazione abbiamo organizzato noi come Treccature Cilento con l'amministrazione di Santa Marina, la Proloco di Santa Marina e l'associazione Cilentomania. Questo rientra in quelle che sono le escursioni che servono a far conoscere i centri storici dei nostri paesi. Come nasce l'idea di questo trekking e di cultura? Nasce proprio dal fatto che ci siamo resi conto che parecchie persone, io per primo, ho conosciuto i centri storici, la storia e degli angoli molto suggestivi dei paesi che ci circondano facendo questo tipo di escursione.